benvenuti nel centro natatorio monpiano siamo situati a nord del centro di brescia uscita autostradale brescia ovest il centro dispone di piscina olimpionica per pallanuoto da 34 metri con tribuna che può ospitare fino a 800 spettatori più due vasche didattiche coperte il centro fornisce corsi di nuoto per tutte le età da baby a bambini adulti e anziani e sono inoltre disponibili corsi di ginnastica in acqua idrobike e corsi in acqua per future mamme che aiutano a mantenere una buona forma fisica in vista del parto durante l'estate è anche disponibile parco estivo con piscina all'aperto dai tu partiamo un piano vedi natavi vici